Rocca Costanza torna a risplendere. Nel 2023 partiranno i lavori di riqualificazione di uno dei contenitori più prestigiosi della città pesarese. La Rocca diventerà la sede dell'archivio di Stato e tornerà ad ospitare eventi culturali. Il tutto grazie all'accordo siglato tra Agenzia del Demanio, Ministero della Cultura e Comune di Pesaro, un accordo che riguarda appunto la valorizzazione del prezioso immobile e in generale un'operazione di riqualificazione per un importo pari a 5 milioni e 400 mila euro, così ripartiti, un milione e quattro saranno messi a disposizione dal Ministero della Cultura, 3,6 milioni dall'Agenzia del Demanio e 400 mila euro dal Comune di Pesaro. L'Agenzia del Demanio assumerà le funzioni di stazione appaltante per l'allerizzazione dell'intervento che durerà nel complesso tre anni. Una parte importante diventerà luogo culturale della città con la possibilità di eventi, di utilizzo del fossato e anche l'archivio di Stato diventerà sostanzialmente un museo, quindi un grande investimento. Altre risorse che vengono da Roma verso Pesaro è un contributo fondamentale per la crescita artistico-culturale della nostra città. Tra i punti di forza dell'intesa presentata questa mattina nella Sala Rossa del Comune, la riqualificazione di un bene dello Stato di rilevante interesse storico-artistico. La struttura, che ha svolto funzioni carcerarie fino al 1989, con la sua funzione di archivio ora diventerà più facilmente visitabile e circa 700 metri saranno destinati alle attività culturali. Un onore per l'Agenzia del Demanio partecipare a questo accordo, che ci consenterà di essere elemento acceleratore di un percorso che hanno iniziato i beni culturali anni fa e che porterà finalmente Rocca Costanza ad una nuova vita. L'idea è di realizzare immobili che siano sempre sostenibili, sostenibili sia in termini di impatto ambientale, quindi sicuramente realizzeremo una progettazione BIM, ma allo stesso tempo sostenibili in termini di spesa. Quindi mettere insieme pubblica amministrazione con enti comunali e a volte, perché no, anche con privati quando è possibile. Quindi riteniamo che questo possa essere l'ennesimo fiore all'occhiello di Pesaro e di tutta la Regione Marche. L'obiettivo è quello di superare qualsiasi inciampo, inconveniente che può capitare in corso d'opera e garantire che entro capodanno 2024 una parte della festa si faccia all'interno della Rocca. La sovrintendenza con il segretariato regionale, viceversa, sta facendo i lavori alla Rocca Costanza e li farà per tutto il 2022, perché dobbiamo portare a completamento i finanziamenti che sono rimasti in capo a noi. E come vi dicevo, farà in modo di trasferire il bene all'Agenzia del Demanio per la conclusione dei lavori. Noi ci occuperemo sostanzialmente dei lavori di stretta competenza, quelli più relativi ai restauri, ai consolidamenti, gli ultimi che ci sono da fare per poi lasciare all'Agenzia del Demanio tutta la sistemazione delle finiture e delle ultime cose. Mentre la Direzione Generale Archivi si occuperà con un finanziamento dedicato a tutto l'allestimento dei depositi degli archivi, che anche quello sarà una cosa enorme, perché sapete che dovranno essere ricoverati 14.000 metri lineari di documenti.